Ciao, ecco un nuovo video della rubrica Chiedilo ai Candidati, con cui i candidati consiglieri di Potere al Popolo rispondono alle domande che gli sono stati posti ai banchetti, alle iniziative o sui social. Io sono Rosaria Valenti, candidata consigliere per la provincia di Forlicesena e rispondo a questa domanda. Il sistema sanitario dell'Emilia Romagna è il migliore d'Italia. Perché Potere al Popolo allora è critico? Potere al Popolo è critico rispetto al servizio sanitario dell'Emilia Romagna perché l'efficienza che lo caratterizza è un'efficienza di facciata che trova risalto grazie all'inefficienza delle altre regioni d'Italia. È facile essere il primo della classe quando i tuoi compagni sono degli asini. Inoltre l'efficienza del servizio sanitario dell'Emilia Romagna si fonda sullo sfruttamento dei lavoratori e su una strutturale carenza di personale che si traduce in negazione di servizi. L'efficienza del servizio sanitario dell'Emilia Romagna cede il piano occulto dello smantellamento e della privatizzazione del servizio sanitario nazionale come comprovano i recenti accordi stretti da Bonaccini con l'IOP per un aumento delle risorse destinate alla sanità privata, risorse che secondo il Popolo avrebbero dovuto essere destinate al servizio sanitario pubblico per superire le carenze di personale, per un aumento dei servizi socioassistenziali, per l'internalizzazione dei servizi di mensa e pulizia. Il Popolo quindi è critico nei confronti del servizio sanitario dell'Emilia Romagna perché scopo principale del servizio sanitario pubblico dovrebbe essere il diritto alla salute dei cittadini e così non è. La politica di Bonaccini si è posta come scopo principale il taglio della spesa pubblica che non sempre equivale a taglio degli sprechi ma nella maggior parte dei casi equivale a taglio dei diritti dei cittadini e dei lavoratori. È per questo che il Popolo si candida, per promuovere un'inversione di tendenza, per riportare al centro il dibattito politico e il diritto alla salute e il diritto dei lavoratori del comparto sanitario.